Ti parlo della proposta 648 di Atom che vuole dimezzare gli interessi. Benvenuto o benvenuta nella banda C69 Crypto Trading. Perdonami se ieri sera non ti ho pubblicato un video. Se vedi che non pubblico un video al giorno, tirami un orecchio perché mi sono fatto questa promessa. Come viene, viene. Cerco di mantenermi in contatto con te sempre per darti valore aggiunto. Allora, ne parlavamo, facciamo un breve riepilogo, guarda ad esempio i vari messaggi nel gruppo Telegram. Trovi il link in descrizione a questo video. Guarda, ieri è uscita la notizia, il commissario della SEC afferma che non c'è motivo per noi di ostacolare un ETF spot. Tutti entrano long sulla notizia a raccogliere spiccioli. Invece guarda, il nostro indicatore riservato sniper ci aveva dato il buy già più di un mese fa. Sabato 30 settembre è arrivato l'alert buy, forse era domenica 1 ottobre, a cavallo tra un mese o un altro, quando il bitcoin stava intorno ai 26.700 dollari, cioè 10.000 dollari fa. Il resto è storia. Questo per farti capire che le notizie sono sì importanti, ma la matematica, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale quando utilizzata nel modo giusto, come in questo caso dei nostri indicatori riservati, non per niente, ci abbiamo messo tre anni per svilupparli, tre anni e mezzo ormai perché siamo a novembre 2023, e come vedi i risultati arrivano. Quindi sfrutta lo Sfert Black Friday, ma ti volevo, dove sta, ti volevo far vedere, ti volevo far vedere la proposta di Atom. Vediamo se ce l'ho di qua. Perché ci ragioniamo? E ti dico perché ho votato sì, eccola qua, proposta 848. E' ancora la votazione. Per ora è sul filo del rasoio il sì, col 39.2% di voti, mentre il no è circa il 36%. Tanti, il 23%, si sono astenuti, e addirittura 1.1% ha messo no. Considera che il quorum è sorpassato, perché le proposte su Atom, su tutta la blockchain, su tutto l'ecosistema Cosmos, quando superano il 40% dei votanti, vada come vada, vince chi ha il voto più alto. Perché ho votato sì? Sono un coglione? Forse. Quello sì, sempre. Perché però ho votato sì? Perché ti spiego il ragionamento che ho fatto dietro, e ci tengo a sapere anche te che cosa ne pensi della community, della banda AC69. Allora, leggiamo innanzitutto la proposta. Questa proposta cerca di ridurre il parametro software Max Inflation dal 20% al 10%, che dovrebbe portare l'inflazione attuale di Atom dal 14% al 10%, e sistemare lo staking APR dal 19% al 13.4%. Questo con i parametri attuali. Perché? Perché devi sapere che Atom, com'è che funziona? Quando ci sono più, mi sembra, del 60% dei token a staking, quindi la blockchain è ultra sicura, allora abbassa il parametro. Sia di inflazione, cioè di produzione di nuovi token, di proprio coniare, smette, riduce la coniazione di nuovi token sulla blockchain Atom, e riduce anche, riduce chi? Il software in automatico, il software IBC di Atom, riduce in automatico anche gli interessi. Quindi dimezzare questo parametro ha fatto incazzare parecchi. Perché? Perché soprattutto i lupi, chi se ne approfitta di queste cose? E cosa fanno? Visto che gli interessi stanno circa al 18% adesso su Atom, e cosa fanno? Mettono 1, 2, 10 milioni di dollari in Atom, e man mano che mungono il 18-16%, vedi, gli interessi su Atom oscillano, man mano che vengono prodotti migliaia di nuovi Atom nei loro wallet ogni settimana, loro prendono e li ridepositano su Binance, su Bybit, dove siamo affiliati con lo sconto VIP, li trovo in descrizione, sui vari exchange centralizzati, e li rivendono per dollari. Perché? Perché il loro calcolo delle balene, quelle che hanno i milioni di dollari investiti in questi token, non gliene frega un cazzo della community Atom, della mission, della internet di blockchain IBC, ovvero di creare dei progetti interconnessi fra di loro, creare dei progetti performanti, cercare di apportare benessere alla società, con exchange, ad esempio, decentralizzati, non controllati da nessuno, se ne fregano, e cercano di mungere il più possibile, e facendo i loro calcoli, con degli interessi così elevati, nel giro di un anno, un anno e mezzo, si riprendono indietro tutti i soldi che hanno, in più hanno un bel gruzzolo di Atom che produce interessi. Ora, in tanti dicono, beh, scusa Leo, se dimezziamo questo parametro, ci diamo la zappa sui piedi, però leggendo anche un po' le varie, diciamo, votazioni dei validatori, dei nodi validatori, purtroppo come ACI69 non stiamo su Atom perché ci vogliono più di un milione e mezzo di dollari per avere un nodo valitatore, magari con la forza della community potremmo anche arrivarci se tutti deleghereste dal nostro nodo, ma stiamo su Cava, stiamo su Band, stiamo su Juno, sperando che risorga, già ha fatto più del 4X, ha quadruplicato da quando lo avevo suggerito nei gruppi riservati, su Comdex, quindi cerca ACI69, e delega i tuoi token quando ti va. Su Atom, i nodi validatori considera che guadagnano il 5%, anche il 10%, qualcuno l'ha messo al 0% come noi di ACI69, quando è possibile, però, perdonami, dimenzando questo parametro di inflazione, di interessi, anche i nodi validatori, se votano sì, tra virgolette, si danno la zappa sui piedi, cioè guadagneranno la metà degli interessi. Allora, perché votare sì? Perché proviamo, proviamo, perché dimezzando sia il parametro di inflazione e anche gli interessi, verranno prodotti meno Atom, meno Token. Considera che questo dovrebbe essere anche allineato con Ethereum, perché se ci pensi, gli interessi su un Ethereum, quando li metti a staking su Lido, oppure sugli altri liquid provider, quando li metti a staking liquido, generano dal 4 al 5%, quindi perché Atom, che potrebbe essere il nuovo Ethereum killer, in effetti a tecnologia superiore, deve avere questi interessi così elevati. Proviamo ad abbassarlo, però rovescio della medaglia, e magari ci arriveremo con un'altra proposta, vediamo se passa questa, generiamo più scarsità di Atom, quindi meno pressione di vendita, dimezzando questo parametro, quindi personalmente ho votato sì, e ti spiego i miei motivi. Nella prossima proposta, e questo lo sto scrivendo anche sui forum e tutto, di Atom, proviamo anche a generare un meccanismo di burning fees, ovvero per ogni transazione, in effetti non è che bisogna essere scienziati, basta copiare quello che fa Ethereum adesso, per ogni transazione in Ethereum, una parte, che mi sembra il 30 al 40% delle commissioni Ethereum, vengono bruciate, quindi vengono proprio distrutte, ovvero spedite a un indirizzo cieco, a un indirizzo Ethereum, che non c'è più la chiave, quindi vengono bruciate. Potremmo fare lo stesso anche per Atom. Ora, in tanti online potrebbero dire, Leo, ma che cavolo dici? Abbassando, dimezzando questi interessi, ci saranno meno Atom Mastaking, la maggior parte delle persone toglierà i propri Atom Mastaking, la rete collasserà, crollerà. Secondo me è una cazzata questa, perché ti ricordo che quando Atom stava a 48 dollari l'uno, molti, molti hanno iniziato a toglierlo per venderlo, molti uguali, sempre i lupi dell'inizio che ti dicevo, che ha milioni di Atom, non noi poveri cristiani, che abbiamo pochi spiccioli in Atom, però, diciamo, le balene che aveva milioni di Atom Mastaking, e ce ne sono, fidati, chi ne ha 100.000, chi ne ha 200.000, è tutto trasparente sulla blockchain, chi ne ha più di un milione, li hanno tolti e li hanno venduti, eppure la blockchain ha sempre retto, perché? Proprio per questo meccanismo di innalzamento delle fees, ovvero il software che fa, quando vede che viene tolto, ipotesi, un milione di Atom Mastaking dalla blockchain, allora a quel punto innalza il tasso di interesse, e quindi sprona il restante delle persone a mettere a staking i propri Atom per guadagnarci di più. Quindi ha funzionato questo meccanismo. Personalmente sono curioso a vedere che cosa succederà se passa il sì. Fammi sapere che cosa voti, sono curioso. Anche chi non cambia mai idea è uno stupido, quindi fammi cambiare idea, fammi capire perché ad esempio te sei contrario, oppure fammi capire perché anche te sei d'accordo a votare il sì. Ti ringrazio, ti invito a sfruttare, guarda qua, le offerte del Black Friday, perché abbiamo sia tutti gli indicatori, Infinity Sniper che ci stanno facendo guadagnare parecchio, con 12 mesi di coaching dedicato, con 1000 euro di sconto, 24 mesi addirittura con 1500 euro di sconto. C'è un nostro amico che si è offerto, di Brarian, risponde a tutti compatibilmente con i suoi impegni, perché fa trading pure lui, e ti volevo far vedere anche il gruppo che ho messo a disposizione. Vedi, ci sono 10 posti, avete già aderito in 71, per 30 giorni è gratis, e ti volevo far vedere i vari segnali, i vari guadagni, ieri un bel 42% su DYDX, chi l'ha dato? Guarda, il buy è arrivato dal nostro indicatore riservato Sniper, quando DYDX stava a 3 dollari e 31. Il resto è storia, ho preso profitto alla linea rossa, che è la linea dinamica che traccia Sniper, poi te lo spiego, quando ti sarai unito alla banda, inizierai a guadagnare, spero anche te. Beh, è abbastanza, cioè tre anni e mezzo di sviluppo software, come vedi, è abbastanza chiaro, etichetta sell, entry short, etichetta buy, entry long, e poi fissi i guadagni, perché l'avidità è una brutta bestia, quindi sempre prendere profitto, senza fare del male a nessuno, il mercato è magnanime, il mercato dà a chi prende sempre profitto, e nessuno è mai andato fallito prendendo profitto. Guarda anche Marco, il nostro responsabile del trading, che ringrazio, che belle analisi che pubblica, questo ogni giorno ci può accedere quando sarai attivo, e come vedi, ci spiega anche due, tre modi per comprare il breakout, e io preferisco sempre l'ultimo, che è quello più diciamo sicuro, ovvero quando c'è il ritest sulla linea di resistenza, quando si trasforma in supporto, prendi e entri, questo te lo spiego anche nei corsi, con l'offerta Black Friday, che trovi in descrizione, a questo e gli altri miei video. Pollice all'insù, scampanella tutto, ti ringrazio, spero di averti dato valore aggiunto, ci vediamo nei gruppi riservati, contatta Librarian, se non ti risponde, dimmelo, perché lo picchio, ma si è offerto, per questo Black Friday, di aiutare la banda, lo ringrazio, e so che sta facendo trading, ha portato a casa enormi guadagni, e come vedi, è una persona di cuore, e cerca di dare qualcosa indietro, come cerchiamo sempre tutti, di aiutarci a vicenda. Ti ringrazio, ci vediamo alla prossima, podice all'insù, e iscriviti. Ciao! Ciao!